Due giovani esecutori di un'estorsione di stampo mafioso sono stati arrestati a Bagheria, gli inquirenti adesso cercano i mandanti. Un 19enne ed un 20enne sono state arrestate a Palermo per aver violentato una ragazza minorenne adescata in discoteca. Padre Hermes Ronchi ha parlato di Pina Suriano in un convegno organizzato in occasione dei festeggiamenti dei cento anni della Beata di Partinico. Consegnato questa mattina un bene confiscato alla mafia all'osservatorio sviluppo e legalità Giuseppe La Franca. L'immobile di via Fermi era stato assegnato al comune di Partinico. Buonasera e bentrovati a Studio TV7. Oggi è sabato 21 febbraio. In apertura due notizie di cronaca che riguardano giovani delinquenti, giovanissimi. A Bagheria sono stati arrestati due ragazzi di 22 anni ciascuno entrambi di Bagheria perché esecutori di un attentato intimidatorio di puro stampo mafioso. Sono stati ripresi dalle telecamere, si sono tra l'altro anche fatti male e bruciati durante l'esecuzione di questa estorsione e sono stati arrestati. Adesso gli inquirenti stanno cercando chi sono i mandanti di queste intimidazioni. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno condotto un'operazione antimafia per l'esecuzione di due provvedimenti cautelari emessi dall'ufficio del GIP del Tribunale di Termini Merese a carico di due persone molto giovani, tra l'altro riconducibili a tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso. L'operazione è l'epilogo di una complessa attività investigativa sviluppata dallo scorso mese di luglio dai carabinieri della compagnia di Bagheria sotto la direzione della procura della Repubblica di Termini Merese. Le attività investigative hanno preso le mosse da due attentati incendiari commessi in danno di un commerciante a Bagheria a luglio e agosto dello scorso anno. Lo stesso modus operandi ha adottato il fuoco appiccato alle saracinesche con la benzina, classico attentato di stampo mafioso il 12 agosto dello scorso anno ad una ditta di rivendita di macchine agricole che ha subito l'incendio della saracinesca del proprio esercizio commerciale. Stesso danneggiamento aveva subito il 19 luglio. Il titolare ha dichiarato comunque di non aver mai ricevuto richieste estorsive di alcun genere. Le indagini hanno comunque consentito di identificare gli autori dell'incendio del 12 agosto. Si tratta di Gianluca Califano, 22 anni, di Bagheria e Salvatore Benigno, anche egli, 22 anni e sempre di Bagheria. I due giovani durante l'atto intimidatorio erano stati investiti dalle fiamme riportando delle ustioni agli arti. Le indagini che si sono articolate in un'attività tecnica e di analisi dei filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza e nell'analisi dei tabulati telefonici in attività investigative mirate e ancora in interventi di perquisizione e controllo sui soggetti identificati come responsabili proseguono per l'identificazione dei presunti mandanti dell'attentata estorsione. È emerso inoltre come il commerciante vittima degli attentati, in realtà, giorni prima degli incendi, era stato avvicinato da una persona collegata con soggetti inseriti nella locale famiglia mafiosa. Questo ha comportato il trasferimento del procedimento alla DDA di Palermo. Altri due giovani, addirittura uno 20 anni e l'altro 19 anni, sono stati arrestati e erano incensurati tutti e due perché hanno violentato una ragazzina minorenne adescata in discoteca. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare domiciliare nei confronti di due giovani palermitani incensurati, rispettivamente 19 e 20 anni, C, F ed F, C le iniziali, responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo in danno di una ragazza minorenne. Le indagini sulla vicenda sono state svolte dalla sezione Reati Sessuali in Danno di Minori della squadra mobile di Palermo. L'episodio di violenza sessuale contestata ai due ragazzi risale alla tarda serata di due mesi fa. La vittima, che non conosceva i suoi carnefici, li ha incrociati durante una serata trascorsa in discoteca in uno dei più noti locali cittadini di riferimento. Qualche chiacchiera e poche battute simpatiche sono servite ai due per ottenere la fiducia della ragazza, complice anche alla circostanza di aver perso di vista la comitiva con cui era giunta nel locale e qualche bicchiere di troppo. La ragazza ha accettato un passaggio in macchina da due giovani. È stata così condotta in un luogo appartato e lì.